In questo tutorial affrontiamo degli esempi sulla derivata di funzione composta. Ricordiamo qual è la formula. La derivata di f di g di x è uguale a f' di g di x per g' di x. Vediamo ora come poter applicare questa formula agli esercizi seguenti. Partiamo dal primo esempio y uguale e alla 4x e ne vogliamo calcolare la derivata prima. In questo caso g di x risulta essere 4x, mentre f di g di x è e alla 4x. Essendo una funzione composta, per calcolare la derivata prima, dovremo applicare questa formula e dovrò scrivere f' di g di x, e allora la derivata prima della funzione esponenziale, e allora dobbiamo scrivere la derivata prima della funzione esponenziale, ossia e alla 4x, poi per g' di x. In altre parole, dobbiamo calcolare la derivata prima di 4x, che risulta essere pari a 4, e allora la derivata prima di e alla 4x è 4e alla 4x. Vediamo questo secondo esempio. Si tratta sempre di una funzione composta dove g di x è pari all'argomento del logaritmo, ossia 2x quadro meno x. E allora, per calcolare questa derivata, applichiamo di nuovo questa formula e vado a scrivere y' uguale f' di g di x. In altre parole, devo calcolare la derivata del logaritmo, e la derivata del logaritmo è uguale a 1 fratto il suo argomento, ossia 2x quadro meno x, poi per g' di x, e allora devo scrivere la derivata di 2x quadro meno x. Apro una tonda ed ottengo 4x meno 1. Vediamo questo terzo esempio. In questo caso g di x è pari a meno x, e allora per calcolare la derivata di questa funzione composta dovremo calcolare la derivata prima della funzione esponenziale, e la derivata della funzione esponenziale è la funzione stessa, ossia ricopio la funzione esponenziale così com'è, e alla meno x, poi per g' di x, e allora devo calcolare la derivata prima di meno x, che risulta essere meno 1. A conti fatti otteniamo come derivata prima meno e alla meno x. Vediamo questi altri esempi e partiamo dalla prima funzione. È una funzione composta dove g di x sarà pari a x alla seconda meno 3x, e allora per calcolare la derivata prima scriverò f' di g di x, ossia devo calcolare la derivata della funzione esponenziale, che risulta essere uguale alla funzione esponenziale stessa, e allora scrivo e elevato alla x quadro meno 3x, poi per g' di x, e allora devo calcolare la derivata prima di x alla seconda meno 3x, che è pari a 2x meno 3. Vediamo quest'altro caso. In questo esempio g di x è pari a radice di x, e allora la derivata prima sarà uguale a f' di g di x, e quindi devo calcolare la derivata del logaritmo, che è uguale a 1 fratto il suo argomento, ossia radice di x, per g' di x, e quindi devo calcolare la derivata prima di radice di x, che risulta essere pari a 1 fratto 2 radice di x. A conti fatti otteniamo 1 fratto 2x. Passiamo al quarto caso e abbiamo seno di 5x. g di x, in questo caso, è pari a 5x, e allora la derivata prima di questa funzione sarà pari a f' di g di x, ossia devo calcolare la derivata del seno. La derivata del seno è pari a coseno, e ricopio l'argomento che è pari a 5x, per g' di x. In altre parole, devo calcolare la derivata di 5x, che è pari a 5, e allora otteniamo come derivata 5 coseno di 5x. Vediamo questo quarto caso, abbiamo coseno di x alla terza. g di x è pari a x alla terza, e allora la derivata prima di questa funzione sarà pari a f' di g di x, ossia devo calcolare la derivata del coseno. La derivata del coseno è pari a meno seno, e scrivo l'argomento che è pari a x alla terza, poi per g' di x, e allora devo calcolare la derivata di x alla terza, che è 3x alla seconda, e quindi otteniamo come derivata meno 3x alla seconda seno di x alla terza. Vediamo questi ultimi esempi. Partiamo dalla prima funzione, e elevato alla x sen x. In questo caso, g di x è pari al prodotto di x sen x, e allora la derivata prima sarà pari a f' di g di x, ossia devo calcolare la derivata della funzione esponenziale, e allora riscrivo la funzione esponenziale così com'è. Poi per g' di x, e allora vuol dire che devo calcolare la derivata prima di x sen x. Avendo un prodotto di funzioni, dovrò utilizzare la formula della derivata prodotto, e quindi il primo derivato, che è 1, per il secondo non derivato, che è sen x, più il primo non derivato, ossia x, per la derivata di sen x, che risulta essere cos x. Vediamo questo secondo caso e osserviamo che abbiamo la somma di due funzioni composte, e allora vuol dire che dovrò applicare questa formula prima in questo termine e poi in questo termine. Partiamo da coseno di e alla x. In questo caso g di x è pari a e alla x, e allora avrò y' uguale f' di g di x, e quindi calcolo la derivata del coseno, che risulta essere pari a meno sen x, e poi scrivo l'argomento che è e alla x, per g' di x, e allora devo calcolare la derivata di e alla x, che risulta essere e alla x. Ora passo al secondo termine e ne calcolo la derivata. In questo caso g di x è pari a radice cubica di x, e allora applicando questa formula scriverò più f' di g di x, ossia la derivata del seno, che risulta essere coseno, e poi metto l'argomento che è radice cubica di x, per g' di x. E allora devo calcolare la derivata prima di radice cubica di x. Radice cubica di x lo penso scritto come x elevato alla 1 terzo, e allora vado a calcolare la derivata di x alla 1 terzo, e scrivo 1 terzo per x alla 1 terzo meno 1, che è pari a meno 2 terzi. Ora posso riscrivere x alla 2 terzi utilizzando le proprietà degli esponenziali e dei radicali, quindi posso cancellare e scrivere 1 fratto radice cubica di x quadro. Vediamo questo terzo esempio. In questo caso f di x è pari a x fratto x più 1. E allora, essendo una funzione composta, applico questa formula e scriverò y' uguale f' di g di x. E allora devo scrivere la derivata del logaritmo, che è pari a 1 fratto l'argomento, ossia x fratto x più 1, poi per g' di x. E allora devo calcolare la derivata di questa funzione fratta, e quindi applicherò la formula della derivata quoziente di due funzioni. Apro una tonda e scrivo il primo derivato, ossia 1, per il secondo non derivato, ossia scrivo il denominatore così com'è. Poi meno la prima funzione non derivata, ossia x, per la derivata prima di x più 1. La derivata di x è 1, la derivata di 1 è 0, e allora scrivo soltanto 1, tutto quanto fratto il denominatore al quadrato x più 1, tutto quanto alla seconda. Posso rapportare x più 1 al numeratore, eseguire queste moltiplicazioni ed ottengo x più 1 fratto x per, osservo che qui ho x e qui ho meno x che si semplificano, rimane soltanto 1 fratto x più 1 alla seconda. Ed ora semplifico x più 1 con la potenza 2 di x più 1 al denominatore. E in questo modo ho calcolato la derivata di questa funzione. Vediamo quest'ultimo esempio, logaritmo di logaritmo di x. g di x, in questo caso, è logaritmo di x, argomento di un'altra funzione f che è sempre logaritmo. E allora per calcolare la derivata prima scriverò f' di g di x, ossia devo calcolare la derivata di questo logaritmo, che è pari a 1 fratto il suo argomento, ossia logaritmo di x. Questo è l'argomento di questo logaritmo. Poi, per g' di x. Ora devo calcolare la derivata del logaritmo di x, che è pari a 1 su x, ottenendo come derivata 1 fratto x logaritmo di x. E con questo termino il tutorial sulla derivazione di funzione composta.